Qualche ignorante, anche che concorre per il Parlamento europeo, si prende gioco della bandiera europea Il leader di Forza Italia Antonio Tajani, con queste parole, ha dimostrato che la campagna elettorale per le elezioni europee è ormai entrata nelle sue ultime settimane, le più calde, e anche all'interno del centrodestra nonché più esclusione di colpi tra i partiti che a livello nazionale sono alleati Il riferimento di Tajani, che ha parlato durante un evento elettorale a Verbania, in Piemonte, dove si voterà anche per le elezioni regionali, è sembrato immediatamente chiaro Poche settimane fa Roberto Vannacci, generale candidato con la Lega, aveva parlato proprio della bandiera dell'Unione europea in un'intervista, la stessa in cui aveva detto che servirebbero classi separate per gli studenti con disabilità Vannacci aveva dichiarato alla stampa, lui ha un problema, deve costruire una sua identità La bandiera blu con tante stelle che identità vuole rappresentare? Non abbiamo nemmeno un animale a simboleggiarci La Russia all'orso, gli usa l'aquila. E l'Europa? Tajani è sembrato dare una risposta quasi diretta, la bandiera europea non sono 12 stelle su un fondo azzurro Quella bandiera rappresenta la nostra identità e le nostre radici cristiane. Sono le 12 stelle che cingono il capo della Vergine, rappresentano le 12 tribù di Israele, e la bandiera è azzurra perché il manto della Vergine è azzurro Un'opinione, va detto, piuttosto diversa da quella riportata sul sito ufficiale dell'Unione Europea, che riporta Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri In ogni caso, Tajani ha insistito, quella bandiera indica chiaramente quali sono le nostre radici Per quello va rispettata. Su questo credo debba esserci rispetto e cercare di capire bene chi siamo, perché più sappiamo chi siamo, più siamo forti Non c'è solo vannacci, però, pochi giorni fa anche il senatore leghista Claudio Borghi aveva di fatto attaccato la bandiera UET, proponendo di togliere l'obbligo di esporla negli uffici pubblici La risposta immediata di Forza Italia era arrivata dal capogruppo forzista al Parlamento europeo, Fulvio Martuscello, dimostra quale considerazione ci sia nei confronti dell'Europa Se continuano così non toccheranno palla nel prossimo Parlamento, e viene da chiedersi per che cosa si sono candidati Tajani, comunque, ha deciso di non accendere lo scontro in modo ancora più esplicito Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se nelle sue parole ci fosse un riferimento a Borghi o vannacci, si è limitato a dire che era un discorso riferito a tutti, affinché tutti sappiano cos'è la bandiera europea Grazie 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 Grazie